Passa su fifacoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi E con il codice Michael 5% di sconto, link in descrizione Ciao ragazzi, ci vediamo oggi live ma non ho ancora deciso a che ora Voglio giocare alla Weekend League ma vi farò sapere su Instagram se dalle 6 o alle 21.30 il solito orario Quindi restate sintonizzati perché vi farò sapere Salve a tutti ragazzi e bentornati amici Ciao ciao siamo tornati con FIFA 21 ma per la prima volta su PS5 Questa è la mia primissima volta che gioco proprio a FIFA Comunque apro FIFA su PS5 E anche più di un mese che non spacchetto Questo è un grande ritorno cioè oggi devo trovare qualcosa Ed è pure il Black Friday Vabbè o meglio era ieri per voi però insomma Se è vera la storia che meno giochi e più ti premia Cioè è un mese che gioco Mi vuoi da qualcosa anche perché ragazzi La mia rosa in questo momento è questa E voi mi direte Minchia ho investito tutto Tutto quello che avevo su queste tre carte E sono anche in guadagno perché sia Ronaldo che Mbappé sono nella squadra Uno con il Rule Breaker Cioè le cose un po' così L'altro con l'IF Tranne con Neymar Che ho sniperato Pensavo di aver letto 1.500.000 E sono morto dentro Sono morto dentro Poi io tirchio Da Direx sono morto dentro Ma registrerò in più momenti Perché ci saranno i Lighting Grounds 3 Joao 3 Joao Allora ragazzi Allora si trova Registrerò in più momenti Perché ci saranno i Lighting Grounds Uh Eccoli Da 1000 Vabbè si sono quelli da 50.000 Vabbè non mi aspetto di trovare niente In questi qui però Vediamo Il Workout Oh il Workout al primo Oh Brasile Rule Breaker Al primo Al primo Sì, al primo Però poi mi sono giocato tutto Non fa niente, al primo non so quanto vale Ma al primo pacchetto Dai, dai così Primatista E beh, al primo pacchetto sentisci il primatista Godo come un riccio appena nato Eppure fa bigno Andiamo a fà sta squadra ragazzi, non c'ho a nessuno Madonna già so finiti Con calma e per favore Eh, mi pareva brutto far un back to back Con il workout Manco barrete Se torna alla normalità Siamo tornati Oh sono già finiti ragazzi Mi hanno aperto i due signori di lei Ragazzi sono tornato Lighting rounds da 100.000 Triplo oland Prima Joao ha funzionato Infatti forse dovevo andare con Joao Però vabbè 250.000 Ma qua sono già finiti ragazzi Questi finiscono così Con un soffio Con una vertigine Non è walk out Non ci frega niente Perfetto Qua ci dobbiamo sbrigare Forza ragazzi Forza Questo deve essere il mio anno Bene Deve essere il mio anno Forza un if Ho visto qualcosa di già Oh che buona Comunque triplo oland Proprio lo schifo più dotale CR7 if Qua Walk out Niente Brasile No Casemiro a tutta forza va 89 vabbè Vediamo se riusciamo a aprirne almeno un altro paio Oland schifoso vero Se qua adesso non c'è qualcosa di goloso Bisogna uscire Bisogna uscire Perfetto Grazie Olanda Come al solito Sempre molto utile Berardi Grazie Berardi Signor Berardi Ma sono pacchetti questi Signor Berardi Oddio 100.000 Ragazzi Se ne sono andati Cioè Non è passato un minuto Se ne sono andati via 150.000 Cioè Poi ditemi come fa Ibrahimovic a non rosicare Che vuole i soldi Giusto Giusto Ibra Te pago io Porca troia Cioè Guarda che pacchetto Guarda che pacchetto ragazzi Guarda che pacchetto Guarda che pacchetto Begam lo stanno a pagare noi ragazzi Lo sto a pagare io Begam 50.000 Manco walk out Ragazzi Non so che fa Non so che fa Questo credo che sia L'ultimo pacchetto Walk out Dammi una gioia Dammi una gioia Brasile Vabbè meglio meglio Così non me lo devo comprare Va Vabbè Allison Allison Ragazzi È inutile che mi sbrigo Perché tanto Sono finiti qua Bello sto pacchetto ragazzi Veramente molto bello Ho un pacchetto 83 Più 83 83 Siocchiate Ovvio Almeno 84 Argentino TS Tagliafico 84 No Chi è? No 83 proprio No io non ce posso credere Ragazzi Dai Non è che Ma che me devo tirare Ma che me devo tirare Ma che me devo tirare Ragazzi Cosa mi tiro Cosa mi tiro Ragazzi Sono tornato Ma Tranquilli che la fortuna Sarà sempre la stessa Ovvero Nessuna Non esiste Ormai mi ha abbandonato Mi ha abbandonato del tutto ragazzi Ci abbiamo 5 pacchetti Da 2000 Forza Non è uscito niente da questi qua Rendemmoci conto Ma non che negli altri sia uscito qualcosa Benissimo Vabbè Ce li gustiamo Visto che non ci abbiamo fretta Barretta COC Il buon MENDI Il buon MENDI Il buon MENDI Champions League Il buon MENDI Champions League Che mo' è sceso ragazzi Ma questo sale e scende Sale e scende Con pure Pippo Caicedo Perfetto Ce lo siamo giusto giusto ripagato Eh però il walkout è un po' scio A me mi può scio il walkout Ma com'è possibile sta cosa Brasile COC Del Barcellona 83 Codigno Oh signori della EA Un walkout Grazie Niente Non può sci Ragazzi non può sci Non può sci Non può sci Svedese ATT Del Milan Ancora in game E ancora in game Penso ancora per poco Eh però No ma tanto lo so Lo so Uh walkout Vedi Vedi Brasile Cdc Ah Fernando If Vabbè 85 Non malvagio credo Obba Obba G Oh ragazzi Tra trovarli e non trovarli Meglio trovarli no Oh 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 E poi basta Vabbè quanto vale Fernando Niente perché è nel team of the week What the fuck is happening Ah proprio che li listano così Ah vabbè Se ne escono talmente tanti Che li listano a casaccio Buongiorno Sono tornato Ultima possibilità di trovare qualcosa In questo pack opening Che poi ragazzi scusate Ma il Black Friday Non dovrebbe essere una giornata dei sconti Vabbè dai Vediamo un po' che succede Forza FIFA Vabbè in realtà Io al primo pack Ho trovato un primatista Oh walkout alla prima Un walkout buono Sì ATP Ah su Ares Il tempo valeva qualcosa 87 Con la maglia del Barza Vabbè Vabbè 87 ci sta Cioè in realtà no È andato bene Però Uh Walkout back to back Ragazzi Ragazzi non è mai successo nella storia Inglese AS Sterling Buono 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 Non so quanto possa valere Perché sapete quando si spacchetta un macello I prezzi calano a picco Sterling Buono Buono Manco lo dovevo dire Almeno le barrette ragazzi Ecco ATT No CC Del Barza Oh tutto Barza un po' così Perché ho messo una maglietta Ok 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 Oh doppio 85 nel pa Oh ma che sta succede Oh l'oro di Londra Non c'è male Se qua me dà un qualcosa di veramente clamoroso Sono contento Oh Ah blu è blu è blu Niente Oh niente Ah beh Ah beh Ah beh Isco Oh non devono essere walkout questi qua della Champions League Eh no E poi comunque un Sirico Un Ibra Oh il bicio Così a caso A caso Così Me l'ha dato Che cacchio è ATT Germania ATT Manco walkout Il bicio Che ora non vale niente Chiaramente Però Ah beh un centinaio Ah Mettilo su E beh vai che sta sculando Ho capito Ho speso Non so sa quanti soldi Ma questa è la vestaglia ragazzi Non ho posto Particolare Attenzione al fatto Che non è blu Ma è grigia Quindi Cioè Vorrà qualcosa Vorrà dire qualcosa Uruguaggio Dicci Oh raga Ma che cosa succede È il momento Non si deve No Non ci dobbiamo fermare Alto 85 Non bisogna fermarsi stamattina Stamane Stamane Ma però da questo invece Workout Uruguaggio Dicci Ma me l'hai dato adesso Ma no Ma che è sto scam Oh walkout No No da Champions League Oh no Ok Oh Diego Douglas Costa Dico Costa Che sto dicendo Douglas Costa Oh Ragazzi Ma che sta succedendo oggi È tutta gente che vale No Non mi fa spacchettare la mattina Uh Vabbè però Uh Scrinia però Quanto sta adesso Douglas Tutta gente che vale Ebbè 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 Neanche le varrete Vabbè Infatti ragazzi Bisognava chiudere Alla grande Abbiamo chiuso Alla grande Ragazzi Non posso dire Che è andata male Questo spacchettamento Del Black Friday Certo Ho speso tanto Alla fine Vi spoilerò Che la squadra È questa La giocherò In live Non so Se nel pomeriggio O la sera Vedrete il resoconto Domani Un saluto a tutti Amici Ciao Ciao Alla prossima Ciao ragazzi Ciao